Sensi unici e inversione del senso di marcia, restringimenti di carreggiata, vie chiuse al transito. Sono i disagi, temporanei e necessari, a cui i piacentini devono far fronte al ritorno dalle ferie, per lavori e cantieri stradali o per occupazione della carreggiata a causa di lavori privati. L'estate è il periodo migliore per fare manutenzione straordinaria alle vie della città, sia per il clima favorevole che per l'assenza di tanti piacentini in vacanza e con le scuole chiuse. Lavori che a volte, per l'importanza e la dimensione dell'intervento, si protraggono anche nei mesi successivi e così succede che ad attendere i piacentini ci siano una quindicina di cantieri, tra quelli in fase di chiusura, quelli ancora in corso d'opera e quelli in procinto di partire. Non solo piazza Cittadella per la realizzazione del parcheggio sotterraneo o via Maculani per il trasferimento del capolinea degli autobus quindi. Operai al lavoro anche in via Gadolini, via Calde e via Lanza per la realizzazione del progetto Bike to Work. Altri lavori particolarmente sentiti sono quelli in via Giordani per la riqualificazione della pavimentazione in porfido, ormai giunti al termine, con riapertura prevista prima dell'inizio delle scuole. Cantieri aperto anche in via Verdi per la riparazione del tetto della sede comunale. Lavori al termine in via Taverna, mentre dal 9 al 21 settembre chiuderà via Castello per la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura. Cominciano domani i lavori in piazzale Medaglie d'oro, via Fermi e via Genova per la ristrutturazione della facciata di un edificio, la cui conclusione è prevista per l'ultimo giorno dell'anno. Altri lavori in corso in via Bentelli, via Gardella e via 24 Maggio, mentre chiudono oggi quelli di via Nasolini e via Perinetti, così come quelli di Vicolo Manzini e via Lampugnani, dove però alcuni divieti insisteranno fino al 23 settembre. È destinato invece a superare il 2024 il cantiere aperto lo scorso luglio in via Sante Eufemia, che chiuderà il 31 gennaio del prossimo anno.